Prosegue l'attività agonistica del Volley Club Schacca, storico sudalizio locale, oggi impegnato nei campionati di Serie C maschile e di Coppa Italia Serie D femminile. I team sono seguiti con la competenza e passione di sempre dall'allenatore Enzo Graffeo, che punta molto sui giovani del vivaio. Lo ascoltiamo in questa intervista. Siamo riusciti a mantenere l'equilibrio che abbiamo lasciato l'anno scorso. Stiamo facendo un buon campionato e adesso accedendo alla seconda fase abbiamo iniziato bene vincendo contro il Donorioni. Adesso domani, sabato ci aspetta un'altra gara importante contro il Terrasini, che è una squadra che già noi conosciamo, ci conosciamo entrambe, quindi bisogna vedere il campo cosa dice. Il gruppo sembra coeso e tecnicamente valido? Sì, è un gruppo che lavoriamo già da diversi anni. Ovviamente qualcuno è andato via per motivi di lavoro o per motivi di studio, però lavorando sempre con il discorso del settore giovanile abbiamo sempre un po' il cambio generazionale, quindi qualche ragazzino del settore giovanile o dell'Under-19 e dell'Under-17 sono stati inseriti in prima squadra, ben figurando ovviamente. Come avete vissuto come sodalizio questa lunga fase di sosta? Beh, sappiamo, è un discorso generalizzato, non è stato facile, però ovviamente abbiamo iniziato con i vari protocolli che la federazione ci dettava, quindi ci siamo allenati anche se non in maniera continua, però siamo riusciti nel nostro intento di andare in palestra e dare sicurezza pure ai nostri tesserati, perché penso che sia la cosa più importante. Voi avete anche un'interessante squadra femminile? Sì, 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 lavoriamo anche con il settore femminile, le ragazze hanno intrapreso questo campionato che quest'anno viene chiamato Coppa Italia di Serie D, anche se le prime due gare non sono andate bene, però la voglia di venire in palestra e di allenarsi è tanta e penso che questa sia la cosa più importante per le ragazze e anche per noi come società. Voi puntate molto sui giovani, sul vivaio, avete cominciato anche i tornei giovanili? Sì, 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 noi eravamo già iscritti perché le iscrizioni noi le facciamo sempre a ottobre, quindi noi abbiamo scritto due squadre under 17 maschile e femminile, poi abbiamo scritto anche la squadra under 19, penso che sia naturale dare anche a loro la soddisfazione di stare dentro il campo, di giocare, di fare pure esperienza. L'obiettivo è quello di lanciare qualche giovane interessante anche per altre squadre più importanti? Certo, ovvio, questo è il nostro principale obiettivo, ci sono parecchi ragazzi che sono fuori dalla Sicilia, quindi noi contiamo sempre di collaborare anche con società importanti che ogni tanto chiedono di qualche nostro ragazzo, se noi lo facciamo visionare e poi se sono all'altezza della situazione si trova un accordo e i ragazzi devono andare, penso che sia giusto che vanno a fare questa esperienza diversa da quella che hanno fatto fino ad ora. Non possiamo esimerci da una domanda sul famoso pallone tenda? No, con il pallone tenda si conosce la situazione, è già da due anni che siamo fuori dalla struttura, non lo so, speriamo bene, speriamo che l'amministrazione ci tenga in considerazione, ma non solo come pallavolo, ma penso anche per tutti gli altri sport, perché può essere anche un punto di riferimento per tutti, quindi non fare solo una struttura, ma cercare di crearne altre per dare la possibilità a tutte le nostre associazioni del nostro paese di usufruire e perché non organizzare anche delle belle manifestazioni che penso che a Sciacca il valore c'è, insomma è importante pure per loro avere un punto di riferimento dove andare a fare queste manifestazioni. Per chi volesse avvicinarsi al mondo della pallavolo come può fare? Beh, noi in questo momento siamo all'interno della struttura della Sicilia Sport, ovviamente cercheremo un po' di andare all'interno delle scuole e fare anche delle lezioni gratuite, perché il mondo femminile è un po' più avanti rispetto al maschile, quindi chi volesse venire, insomma noi ci troviamo all'interno della Sicilia Sport, dove facciamo lezioni in questo momento anche gratuitamente per dare un po' spazio e per dare visibilità a questa nostra disciplina.